La fontana di Piazza Salotto, il concerto di Capodanno e gli investimenti fuori budget sul cantiere che sta diventando storico, quello di Viale Marconi. Ma quale Natale solidale? Questa mattina c'è stata una vera e propria levata di scudi da parte dei gruppi consigliari del centro-sinistra contro quanto presentato dall'amministrazione Masci l'altro ieri. Sotto i riflettori i buoni spesa natalizi, una beffa già solo se paragonati ai 700.000 euro complessivi dello scorso anno distribuiti su 3.000 famiglie. Grande enfasi per i buoni alimentari da parte della Sindaco e della Giunta che hanno messo in evidenza un aiuto per 400 famiglie, aiuto che di fatto non ci sarà. Saranno ben 6.000 le famiglie che resteranno senza nessun sostegno per affrontare queste festività natalizie. Noi abbiamo visto sì uno stanziamento di 35.000 euro ma che non viene dal taglio sulle luminarie ma è all'interno dello stesso capitolo del bilancio sociale. Invece abbiamo notato come c'è stato uno spreco, un dispendio di fondi a partire da 700.000 euro per Viale Marconi, 300.000 euro per La Fontana che sarà inaugurata, quindi la festa magari sarà soltanto per il Sindaco e la Giunta e ancora i 100.000 euro per il concerto della Bertè. Certo è però che gli aiuti del Governo nel 2021 hanno beneficiato dell'effetto Covid e sono arrivati a coprire spese inimmaginabili per le magre casse del Comune. Quello che ci dispiace è che i centralini della Segreteria del Servizio Sociale sono stati presi immediatamente di assalto, sono arrivate appunto ben più di 400 telefonate, soltanto che tutte queste richieste saranno in evase perché questo sostegno andrà semplicemente alle famiglie che già fanno parte della presa in carico per il PIS, per questo fondo di intervento.